Buonasera a tutti, siamo qui oggi con un ospite speciale, la signorina Adenia Monteano, che ci spiegherà come mai non è possibile guardare attraverso una stella. Innanzitutto grazie per avermi invitato qui da voi questa sera, è davvero un piacere. E appunto iniziando il discorso, parto come dire che in realtà quelle che noi vediamo la sera, in una notte limpida, non sono stelle ma è la luce che proviene dalle reazioni chimiche che avvengono all'interno di queste. Infatti, no, scusate ma così non riesco a lavorare, non riesco a vedere il mio interlocutore. Credo ci sia qualche problema, regia, scusate? Ok, molto meglio. Quindi sai com'è difficile parlare con le nonzioni di qualcuno. Comunque stavo dicendo appunto che in realtà le stelle non sono stelle studiate con il telescopio, che appunto studia la luce invisibile, ma con il radiotelescopio, ovvero un particolare macchinario che analizza soprattutto le onde radio emesse dalle stelle. Ed è proprio per questo che in realtà noi non possiamo dire di vedere attraverso le stelle, non si può vedere attraverso le stelle. Ho capito, molto interessante, grazie mille. E ora c'è pubblicità. E ora c'è pubblicità.